Un saluto di bella gente e benvenuti su Scribble.io Allora ragazzi questo è un gioco che sinceramente mi ha intrigato molto E quindi ho deciso di portarlo Sarà che non c'avevo contenuti da portare Sarà che non c'avevo idee E quindi eccoci qua Ehm non lo so Bottiglia Allora vediamo Colore ovviamente faccio così E poi guardate le mie doti Tutti quanti Guardate le mie doti da disegnatore professionista Allora adesso io faccio così E niente praticamente ho già finito Magari ci faccio anche magari non lo so Il tappino E ci scrivo tipo Sopra Perfetto Capirà Sono arrivato secondo Clam disegna abbastanza bene Allora cosa potrà mai essere Secondo me è una campana tipo No Cos'è che è Lamp Ma mi devi spiegare Come cacchio fa sembrare un lamp Dai Sembra un lampadario Ma sta scrivendo questo Sembra un po' una cosa bannabile Effettivamente Allora a me mi sembra No raga è difficilissimo questo Ma raga ma è impossibile Ma questo qua disegna malissimo Quasi peggio di me raga Ma che cacchio è sta roba Ma dai Ma si può Ma che Ma che Come stai a far sembrare un tiso Fammi capire Sta roba è peggio di una Vrè ma porco giuda È peggio di quello Ma dai ma veramente Ma che cacchio stiamo a fa qua Aspettando il mio turno Per disegnare E poi faccio Tutti quanti Sembra un tostapane Ho capito cos'è Però non so come si Non so come si dice In inglese Ma sembra un treppella Proprio Lotteria No io veramente Non Non è un uovo No No raga devo Cambia lingua Cambiamo lingua Ma che cacchè Che cacchè Ah raga ma Un po' Come no Ah forse è così Sì Eh che sono un alfabeto Non sapevo come si scrive Ma la pena di italiano Figurati sia solo pure l'inglese Allora Sembra ancora di più Non so Strudel Sì No Come no Sì ma non dovrebbe funzionare Cioè nel senso Una persona non dovrebbe scrivere Quello che hai disegnato Cioè se no È facilissimo Ma sti altri tre Sono dementi O cosa Sì ma senti Ma non è che ci puoi mettere tre anni Oh Noi staremmo aspettando Che tu magari Disegnassi qualcosa Ah ecco Perfetto A me sembra una palla rossa Un demone Forse No No Tutto rossa No No Satana non può essere Lobster Questa è una ragusta E ammazza che capace Di disegno che c'hanno questi Oh Ah Capito Eh ho capito Ma questo cosa sembra Un gambero Che bel disegno Proprio da quadretto Questo eh Pensate ma questa è l'apocalisse di Genova O cosa La foresta dei cazzi volanti No no Maggi Ma dico io Ma potevi fare un cappello Magari una pacchetta Maggio Che stai Fai Ma sei impazzito E noi Punto Un E noio Come stai Fai a descrivere la magia Così O stai Con Naragossa Lai Una mosca A me sembra una candela Un pettardo Zio A me sembra una candela Allo Dobbiamo smetterla questa Oppure Non lo so C'è Questo più che un video Mi sembra Un robo Voi dimmi No Non lo so A parte che non posso manco far vedere Ma io non posso manco mettere le stai cose nel video Ma che cacchio fai Oh Mi sa che la volta che tocca a me Non c'è sta Dato un pugno al microfono Che Oh Oh Tutto questo Tocca a me Non so cosa vuol dire Perfetto Così 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 Poi così 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 Poi Vedete che in confronto a voi so disegnare Cavolo Oh Guarda così E poi ci scrive una bellissima cosa Ovvero Questa Perfetto Così almeno sanno un po' Eh perché sono ignoranti Eh Infatti non lo sanno cosa vuol dire questa parola Ah no ma io devo cercare di far Ma allora Ma allora vaffan bagno va Ancel Oh Ma perché arrivo sempre secondo io Non si chiama triste che è arrivato prima di me Allora Questa è molto family friendly Quindi questo Cazzo che sto disegnando Questa catra mi sta molto simpatica Mmm Non capisco cosa cavolo sta disegnando Non ho capito Non capisco Planet Si E sono arrivato terzo LM Sono io LM Sono io LM Sei scemo unito per caso? Si esatto No No non è universe Nesta roba Runtabout No no Thunderstorm Va bene Potrebbe essere fridge? Ovviamente no Vuoi disegnare in maniera un po' più dettagliata Che magari non so Grazie A me sembrano i cubi Però non Stack dice Domino Io stavo pensando a Domino Con l'effetto Domino Eh Eh è una bandiera Eeeh Ma dai Perfetto ragazzi Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Mettete like E magari attivate anche la campanellina Io vi saluto Liux saluto E ci vediamo in un prossimo video Se magari il tuo gioco si sta zitto Ascente No 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 No